VENERDI DELLA PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA DAL VANGELO SECONDO MATTEO In quel tempo Gesù disse ai Suoi discevoli, Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribe e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi, Non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della genna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare, e lì ti ricordi che il tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello, e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario, mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna il giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità, io ti dico, non uscirai di là, finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco Poiché, io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scrivi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. La fede cristiana non si manifesta nel semplice essere giusti, ma in qualcosa che è più grande della giustizia, e che non è contemplato in nessuno schema. Madre Teresa amava dire che l'amore non consiste nel fare ciò che ci è chiesto, ma nello scegliere di fare ciò che nessuno ci comanda e pretende da noi. In questo di più si gioca la differenza cristiana. Solo così le parole che Gesù continua a dire non hanno il sapore dell'esagerazione, ma di quella misura altra che Egli è venuto ad insegnarci, soprattutto quando questa misura riguarda l'amore al fratello. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Che senso ha una intensa e appassonata vita di fede che non si ripercuote in un'intensa e appassonata ricerca di comunione con gli altri? Come possiamo ignorare il vincolo che Gesù stabilisce tra la presentazione della preghiera e la riconciliazione con il prossimo? Mettessi a mani giunte può essere fin troppo facile, ma porgere la mano a chi ci è accanto può diventare impresa ardua, specie quando chi abbiamo accanto ci ha fatto soffrire o ci ha fatto del male. Ma Gesù sembra voler dire che il perdono non solo è una cosa buona e necessaria, ma è anche un affare che conviene. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegna il giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Perdonare è un buon argomento per essere perdonati a nostra volta dal Signore. La misericordia e l'amore sono l'unico investimento che ritroveremo nella vita terrena. Tutto il resto lo dovremo lasciare qui.